bentornati nel mio canale e oggi vediamo insieme come fare questo punte onde con l'uncinetto tunisino la lavorazione richiede l'utilizzo del punto tunisi semplice del punto tunisi alto e del punto tunisi bassissimo e di fare il cambio colore dalla destra come abbiamo visto nel video precedente vi farò vedere questa lavorazione con tre colori quindi abbiamo quello bianco come base e gli altri due che si alternano ma questo tipo di lavorazione può essere fatta anche con tanti colori o anche solo con due per quanto riguarda il tutorial utilizzerò questi avanzi di lana con questo farò diciamo il colore base quindi quello che utilizzerò più spesso e gli altri due saranno quelli alternati utilizzo questo uncinetto numero 6 uncinetto tunisino che appunto non è a doppia punta e a questa lunghezza ma per fare i lavori più lunghi gli si può agganciare il filo quello tipico dei lavori con i ferri circolari in modo tale che in pratica si allunga e si possono fare anche lavori di una grandezza maggiore per cominciare avviamo le catenelle che si avviano nello stesso identico modo dell'uncinetto normale come già abbiamo visto dagli altri video il questo punto onde si lavora su un multiplo di 10 più due quindi adesso io avvierò 22 maglie e faccio il primo giro di andata e quello di ritorno come al solito quindi entro nella seconda maglia e carico le maglie sull'uncinetto senza lavorarle ora torno indietro come al solito quindi carico la maglia sull'uncinetto prima maglia e poi faccio la stessa cosa ma sempre con le maglie a 22 queste due ultime maglie le lavoro prendendo aggiungendo l'altro colore e quindi prendo il filo dell'altro colore nel prossimo giro farò prenderò le maglie come al solito solo due come un punto tunisi semplice quindi entro nel filo questo qui nella maglia verticale carico il filo sull'uncinetto e lo lavoro uno e poi lavoro anche il secondo nello stesso modo adesso lavorerò quattro maglie appunto tunisi alto come faccio carico il filo sull'uncinetto entro nella maglia verticale carico un'altra volta il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia carico un'altra volta il filo sull'uncinetto e lavoro due maglie e ho fatto il punto tunisi alto e ho fatto anche la prima maglia ne devo fare altre tre quindi carico il filo sull'uncinetto entro carico il filo sull'uncinetto e tiro fuori carico il filo sull'uncinetto e lavoro due maglie e sto alla seconda di nuovo carico il filo sull'uncinetto entro carico il filo sull'uncinetto lo tiro fuori carico il filo sull'uncinetto e lavoro due maglie e sto a tre e facciamo l'ultimo ecco qua quindi in questo secondo giro con il nuovo colore abbiamo lavorato due maglie appunto tunisi semplice quattro maglie appunto tunisi alto adesso rifacciamo due maglie appunto tunisi semplice quindi entro carico il filo lo tiro fuori entro carico il filo e lo tiro fuori poi faremo due maglie appunto tunisi bassissime come si fa semplicemente si caricano sull'uncinetto senza lavorarle come vedete ecco infatti si sta cominciando l'onda a formare e adesso ripeto dall'inizio fino alla fine questo lavoro quindi due maglie lavorate appunto tunisi semplice quattro maglie lavorate appunto tunisi alto due maglie lavorate appunto tunisi semplice due maglie lavorate appunto tunisi bassissimo per tutto il giro fino alla fine il punto finale si lavora come al solito quindi prendiamo il filo che sta davanti il filo che sta dietro e lo lavoriamo normalmente il giro di ritorno si lavora allo stesso modo quindi carichiamo il filo lavoriamo la prima maglia e poi le lavoriamo a due a due ops così come facciamo sempre i giri di ritorno le ultime due maglie del giro le lavoriamo riprendendo il filo principale quindi quello bianco grigio per quanto mi riguarda insomma grigio bianco e le lavoriamo quindi con il filo principale e facciamo un giro normale di tutti i punti tunisi semplici e torniamo indietro quindi ora facciamo tutto questo giro appunto tunisi e facciamo anche il giro di ritorno senza lavorare le ultime due maglie ovviamente qui dove ci sono le maglie basse lavorate le maglie lavorate appunto basso appunto tunisi bassissimo si lavorano quelli appunto del colore bianco e poi si si va avanti normalmente ora siamo arrivati alla fine del giro di andata e ora facciamo il appunto giro di ritorno lavorando sempre normalmente ecco vedete che le ondine cominciano a farsi e a vedersi arrivati alla fine di questo giro prendiamo l'altro colore il terzo e lavoriamo le maglie con questo colore per fare il cambio questo altro giro che è il quarto lo lavoriamo in questo modo facciamo un gettato e poi lavoriamo la seconda maglia con il punto tunisi alto quindi facciamo il gettato del punto tunisi entriamo tiriamo fuori altro gettato e lavoriamo le prime due maglie dopo aver fatto questo facciamo due punti tunisi semplici quindi entriamo uno entriamo prendiamo filo e due dopo questo facciamo due punti tunisi bassissimi quindi entriamo senza lavorare entriamo senza lavorare dopo questo facciamo altri due punti tunisi semplici quindi entro carico il filo e lo lavoro entro carico il filo e lo lavoro carico il filo lavoro 2 maglie carico il filo entro carico il filo lavoro 2 maglie carico il filo entro carico il filo lavoro 2 3 e 4 quindi ricapitolando abbiamo fatto fatto un gettato un punto tonisi alto 2.21 si basso 2 punti di unisi bassissimi 2 punti tunisi bassi 4 punti tunisi alti e adesso riprendiamo il giro dai due punti tunisi normali semplici quindi faremo due punti tunisi semplici due punti tunisi bassissimi 2 punti tunisi semplici e 4 punti tunisi alti fino alla fine del giro finisce facendo l'ultimo punto non normalmente ma proprio con un punto tutto tunisi alto ok e ora si torna indietro così come conosciamo quindi una maglia e poi due insieme le ultime maglie si lavorano riprendendo il colore di base quindi per quanto mi riguarda sempre questo grigio bianco e si fa un giro lavorando le maglie appunto tunisi semplice tutto il giro come abbiamo fatto prima sia per il primo giro che per il terzo giro ecco qua quindi questo è la lavorazione che si sviluppa in questi giri che si ripetono di continuo andando avanti si sviluppano sempre meglio le onde come avete visto nel campioncino iniziale che ho fatto eccolo qua bene anche questo video tutorial è finito vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video